Signore e signori è uscito un nuovo campione, Gwen è disponibile da ieri sera circa, non ci sprechiamo su commenti sul bilanciamento se è forte o debole, il primo giorno non si può letteralmente capire nulla, dopo una settimana si può cominciare un po' a ragionare su quanto sia forte o debole, ma volevo dare una manina a tutti quelli che devono interagire con Gwen, che devono combatterci contro Gwen, visto che le regole su come funziona la W potrebbero essere un pochino complesse per alcuni e di conseguenza mi sembra senzato fare un po' un'introduzione. Tutto scaturisce da questa singola clip Wow funziona, non ero sicuro ma funziona Sì, holy shit questo è busted as fuck E quando ho visto questo ho pensato, un sacco di gente tilterà un casino se non do una spiegazione, quindi posso fare un servizio, facciamo questo video e almeno voi vi trovate un pochino facilitati almeno in quello che è il vostro lavoro nell'andare a affrontare Gwen Però prima di cominciare vi ricordo come sempre commentate sotto nei commenti se avete dubbi o domande di qualsiasi genere, tipo soprattutto visto che ci sono una marea di interazioni estremamente specifiche che magari avete il dubbio di come funzioni Non solo, vi ricordo anche di mettere un mi piace ovviamente se vi piace il video, condividete con i vostri amici se vogliono capire un pochino meglio come giocare contro Gwen C'è anche il podcast su Spotify, sotto il link in descrizione arriveranno presto altri episodi Doveva già arrivarne uno ieri ma beh, non commento sulla piattaforma di hosting che utilizzo che non è Spotify, ma Spotify a se stante di suo funziona perfettamente Ma ora signore e signori immergiamoci, andiamo a scoprire insieme quello che è il potenziale di questa Gwen Allora partiamo proprio dall'inizio, dalla regola di base necessaria con la quale lavorare e spiegare a tutti quanti come funziona Gwen Se tu sei fuori dal cerchio della W di Gwen non puoi colpirla, punto, non puoi neanche cliccare il tasto destro su di lei Non esiste, è come se fosse su un piano dimensionale diverso Tu la vedi ma non è davvero lì Nel senso, tu quando la vedi non puoi cliccarla Puoi lanciargli attraverso qualcosa se tu sei fuori dal cerchio Quindi non lanciate degli skillshot da fuori del cerchio, se volete colpirla dovete entrare nel cerchio per andare a colpirla Tuttavia ci sono delle specifiche interazioni che dobbiamo sottolineare e di conseguenza adesso andremo a elencarle tutte quante una con calma Una alla volta, ognuna con calma Se sei fuori dal cerchio non puoi colpirla con niente, punto e fine Gwen non esiste se sei fuori dal cerchio Non potete cliccarla, non potete colpirla, non potete fare niente Ma, ma, andiamo a elencare i singoli casi Skillshot proiettile che deve ancora colpire Se Gwen attiva la W un istante prima di essere colpita da uno skillshot Non subisce gli effetti Se non è all'interno del cerchio l'avversario Come sempre, la prima regola, se sei fuori dal cerchio non la colpisci, è sempre valida Immaginatevi una Suprema di Ash Esempio lampante La Suprema di Ash è all'interno del cerchio prima che Gwen riesca a reagire in tempo Però le passa attraverso Per quale motivo? Perché Ash è al di fuori del cerchio quando ha lanciato E dal di fuori nel mentre che Gwen attiva la sua W E di conseguenza non colpisce Ash deve essere all'interno del cerchio per poter colpire la sua Suprema Molto semplice, molto basilare, niente di troppo complicato Questo per tutti gli skillshot di ogni genere e tipo Giusto per fare chiarezza Damage over time! Questo è una cosa che mi hanno chiesto perché Avevo un dubbio anche io all'inizio Infatti inizialmente avevo torto Quando l'abbiamo testato poi in live un paio di settimane fa Il sanguinamento di Darius L'Ignite Il Lion Drill Demonic Embrace La E di Malzar Il Red Buff La passiva di Brand La passiva di Gangplank Ce ne sono così tanti di damage over time Passiva di Twitch La E di Teemo La passiva di Lillia La W di Fitz Il Dot della Q e della W di Cassio P Insomma avete capito I damage over time Quel ticchettio di danno che arriva nel tempo prolungato Come funziona? Molto semplicemente Se tu applichi il Dot prima che Gwen attivi la W Quindi se tu vai ad applicare il danno prima che Gwen attivi la sua W Il Dot va fino in fondo È come quando Vladimir entra nella sua pool È come quando Fitz entra in E Se lui ha l'Ignite addosso Lui prenderà comunque danno Non può schivarlo Non può evitarlo Lo prende comunque Anche se è totalmente intargettabile Stesso discorso si va ad applicare a Gwen Se tu entri nella W O tu attivi la W Dopo che hai già subito il Dot Lo prenderai fino in fondo Tutto quanto È proprio inevitabile questa cosa Andiamo avanti con le trappole Le trappole sono abbastanza curiose Più che altro perché ce ne sono così tante di trappole Se il campione che ha piazzato la trappola è fuori dal cerchio La trappola non si attiva Non esplode E non ti colpisce Cosa vuol dire questa frase per intero? Perché ci sono alcune trappole che si attivano Come quella di Shaco Che deve essere una certa gittata O anche gli emblemi Le trinket di Fiddlesticks Non esplode Come ad esempio magari un fungo di Timo Che potrebbe esploderti faccia Mentre ci cammini sopra O giusto giusto vicino E non ti colpisce Ad esempio la trappola di Nidalee Se ci cammini sopra Come sempre Il campione che ha piazzato la trappola Deve essere fuori dal cerchio Ovviamente Ma se un campione Piazza la trappola All'interno del cerchio E lui è fuori Non funziona ugualmente Il senso è sempre lo stesso Se il campione è fuori Non viene colpito Cosa importante da notare Funghi di Timo, box di Shaco Trappola di Nidalee Fiori di Jean Trappola di Kaylin Trappola di Jinx Tutte Tutte vengono totalmente ignorate Gwen ci passa sopra Se tu non sei dentro al cerchio Non le colpisce Nota importante per le trappole di Shaco Che hanno una certa gittata per colpire Se tu hai la W attiva E tu sei sul bordo della W E fuori dal bordo C'è la scatola di Shaco Non si attiva Non la vede È come se non la vedesse proprio È uno degli strumenti più intriganti di Gwen questo Non per il modo in cui funziona Con la trappola di Shaco Ma è uno dei più difficili a gestire Perché sai che Se vuoi gestire Se vuoi gestire Gwen Devi per forza di cose piazzarti le trappole Sotto i piedi Quando ti sta aggredendo Non puoi sperare Che una trappola piazzata precedentemente Possa andare a fregarla Per così dire Chiaro Deve sapere dove è piazzata la trappola Per poter giocare con la W attiva Attorno a quella trappola Però Se vedete che cammina sopra una trappola Durante un fight E ha la W attiva E non siete dentro al cerchio Non stupitevi Questo è il senso di questo Intero discorso I servitori lanciati Per così dire Come il Tibbers Se viene lanciato il servitore Da fuori del cerchio Non applica il danno istantaneo Che voi sapete Quando atterra Tibbers Nel momento esatto istantaneo In cui Tibbers atterra Annie fa danno Annie però fa danno Non Tibbers È questo il problema E di conseguenza Tibbers atterra Non applica lo stordimento di Annie Non applica il danno di Annie Perché è fuori dal cerchio Annie Se è fuori dal cerchio Annie Ma Tibbers Essendo dentro poi Il suo danno nel tempo I suoi autoattacchi Li tira tutti quanti Perché è un servitore Ed è dentro al cerchio Questa è una regola importante Perché si va a applicare Anche a tutti gli altri servitori Grandi e piccoli Andiamo a elencarli Una alla volta Ovviamente se Annie è dentro al cerchio E Tibbers colpisce Tibbers fa danno pieno Punto E basta Però ci sono alcune interazioni strane Che andremo a vedere poi Che potrebbero stupire non poco Servitori grandi I servitori quando sono dentro al cerchio Funzionano come normale Quindi Tibbers Clone di Shaco Daisy Maiden of the Mist Qualsivoglia servitore Che tu puoi muovere nel tempo E continuare a riposizionare Se è dentro al cerchio Lo colpisce Se è fuori dal cerchio Ovviamente non lo colpisce Quindi se Daisy Tira il knock up Ma Gwen esce Dalla zona di knock up O comunque esce Cioè Tira fuori il cerchio Lontano da Daisy E quindi il knock up è partito Non colpisce Gwen Perché è fuori dal cerchio Daisy Devi essere dentro al cerchio Per colpire Colpire con questi servitori Servitori grandi Stesso discorso per i servitori piccoli Come i pippotini Malza I gatti di Yorick I ragni di Elise Se sono dentro al cerchio Riescono a danneggiarti E colpirti come normale Se sono fuori Non ti fanno letteralmente nulla Della serie Per Yorick Visto che molti giocano Yorick adesso Se tu lanci Una E su Gwen E lei tira la W Dopo che è stata colpita Dalla E Se i servitori Non sono partiti subito All'attacco I servitori appaiono Ma poi non si lanciano su di lei Perché è come se non la vedessero Per loro è tipo Ok Non la vedo proprio A meno che la bara La bara tra virgolette A meno che i servitori Siano dentro al cerchio di già Oppure siano In una bara Dentro al cerchio La fossa Da cui escono fuori Questi affari I gatti di Yorick Allora In quel caso Sì Ti attaccano Ti colpisco Ti vedono Perché sono dentro al cerchio con te Le torrette Abbiamo dovuto testarle E grazie Dardus Per questo supporto Che già mi aiuti con i video E poi mi fai anche questo Torre di Aphelios Torre di Emerdinger Piante di Zyra Tentacoli di Laoi Funzionano tutti allo stesso modo A livello di programmazione E quindi Se vedete qualcosa di strano Ditemelo Fatemelo notare Perché sono incuriosito da questo Per quello che abbiamo testato però Attaccano Gwen Se sono dentro il cerchio Se sono fuori dal cerchio E lei è sul bordo Le torrette è come se non la vedessero La guardano e tipo Ok non c'è nessuno qua da colpire Colpiscono Minion Colpiscono cose Ma finché non scade Il cerchio di Gwen Finché lei non Viene di nuovo vista Dalla struttura Dalla torretta Non viene colpita Perché la torretta Non la vede all'interno Non è un bersaglio valido per lei Perché la torretta è come se dovesse Cliccare su Gwen Ma è dentro al cerchio Gwen E non può cliccare la torretta Su qualcosa che è Dentro al cerchio Perché non c'è niente Beh Gwen Non può essere cliccata Se è dentro al cerchio Quindi Niente può essere Effettivamente colpito Niente Vuoto Le torrette Le torrette devono aspettare Che finisca la W O essere dentro al cerchio Ovviamente Se sono dentro al cerchio Funzionano come normale I muri artificiali Che possono spostarti Come il pilastro di Trandol Il muro di Anivia Il muro di Italia Allora Non funzionano Lo spiego un attimo Perché qualcuno potrebbe leggere E dire che cacchio Come non funzionano Non funziona il deposizionamento Sapete come il muro di Italia Il muro di Anivia Il pilastro di Trandol Quando vengono sollevati O anche la Q di Horn Per dire Anche quello è un pilastro di Horn Quando vengono sollevati Che cosa succede Vanno a deposizionare Un campione Che c'è abbastanza vicino Gwen no Gwen non viene deposizionata Viene Semplicemente Che cosa succede Lei ci può Tra virgolette Passare attraverso Nel momento in cui è piazzato Ma poi funziona Come un muro normale Quindi Non viene deposizionata Dal muro Ma Nel momento in cui Il muro è up Se tu Tra virgolette Esci dal muro Perché esci praticamente Istantaneamente dal muro Poi viene calcolato Come un muro dal gioco E quindi Gwen non può Passarci attraverso Nell'esatto istante In cui il muro va up Non vieni deposizionato E puoi spostarti fuori E poi dopo funziona Come un muro normale Non puoi passarci attraverso Prima che qualcuno chieda E dica Ah ma allora è rotto Perché puoi passare attraverso i muri Non è proprio così Cioè È una interazione Su centomila Che succede In cui ti piazza il muro Dianivia Per preciso Perfetto Sotto i tuoi piedi E allora Gwen È a metà E il gioco deve decidere Se metterti su un lato O l'altro È rarissimo che succeda È molto improbabile Però O se succede Molto culo se state giocando Gwen Per chi chiedeva Per quanto riguarda Twisted Fate Con la sua Suprema Funziona Lo puoi effettivamente vedere Gwen Non è immune Dalla Suprema di Twisted Fate Il chemtang turco Il chemtang turco Il chemtang turbo E il predator Nel momento in cui Sono vicini a Gwen Stanno guardando Gwen I campioni che hanno indosso Questa runa Questo oggetto Quando attivati Ottengono la velocità di movimento Cosa significa? Un campione che vede A prescindere Riesce ad ottenere La velocità di movimento Verso Gwen Nel momento in cui Parte Cosa molto importante Molto importante questa È assolutamente necessario Che ci sia questa funzionalità Perché Se no sarebbe veramente impossibile Per un jungler da chemtang O un jungler da predator Riuscire ad impattare In maniera efficace Con questi oggetti Che si basano sul Vedere il tuo avversario E corrergli in faccia I barili di gangplank Deve essere dentro gangplank Quindi Non funzionano come unità Una torretta o cose del genere I barili di gangplank Devi essere dentro Tu devi essere proprio dentro al cerchio Con gangplank Non col barile Con gangplank La catena di barili Non va a fare danno su Gwen Questa è una cosa Molto intrigante Però Andiamo avanti Questo avete visto La clip iniziale Ed è il motivo per cui Abbiamo iniziato con questo Con questo intero video Che alla fine veniva Riassunto qua sotto Spell che portano Un campione dentro al cerchio Se il campione La lancia da fuori E Gwen è sul bordo Allora va a vuoto Se il campione La lancia da fuori E Gwen non è sul bordo Allora non va a vuoto Per quale motivo Il modo in cui funziona League of Legends Si basa su una struttura Un po' strana Che potrebbe stranire alcuni Mentre invece per uno Che programma giochi O informatico Capisce un pochino meglio Arrivo Allora Voi quando vedete il campione Non è che il suo modello È proprio Il singolo corpo Ed è soltanto quello Ogni singolo campione Ha un cerchio Attorno a sé Che è il suo hitbox Ovviamente è un pochino Più grande O più piccolo Dipendentemente dal campione Ogni hitbox è totalmente diverso E come funziona Quando c'è la W di Gwen attiva Questa è la sua W Metà del cerchio Di un campione Deve essere dentro Per poter colpire qualcosa Se Gwen Si mette qua felice E contenta sul bordo Un campione Non riuscirà mai A entrare Per più di metà All'interno del cerchio E colpirla Tu devi avere Almeno la metà Del tuo campione All'interno Proprio così Deve essere almeno la metà Per poter colpire Gwen Per poter essere calcolato Come essere all'interno Del cerchio di Gwen E questa è la difficoltà Ed è questo il motivo Per cui molti Sono tiltati Perché dicono Ehi per quale cacchio di motivo Con Malphite Non l'ho beccata di ulti Anche se ero dentro al cerchio Perché quando sei entrato Quando hai colpito la zona Con Warwick Con Urgot Eccetera 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 Che cosa è successo? Tu hai colpito la zona Ma non eri ancora All'interno del cerchio del tutto Quando l'hai colpita E infatti Ci sono molte Molte difficoltà Quando devi ingaggiare E lei gioca correttamente Sul bordo Quando sei contro Urgot Quanto sei contro Warwick Malphite Cose di questo tipo Che devono scattare in avanti Per ingaggiarti in maniera efficace Allora purtroppo Questa è l'interazione Ed è corretta Proprio perché È il modo in cui funzionano I modelli di gioco Di League of Legends Poi per gli hitbox Tutti tiltano Perché purtroppo La land degli evocatori È un ambiente bidimensionale In cui Quando Essendoci una minima differenza Di altezza A causa del texture Purtroppo Purtroppo Noi vediamo Certi hook di Nautilus O certi grab di Blitzcrank Che non avrebbero senso Di beccare Ma poi li guardi In due dimensioni Dici Ok sì Dovrebbe beccarlo È che purtroppo C'è quel minimo dislivello Che crea un problema Ed è molto Molto frustrante Però Questo è un discorso a parte Torniamo su Gwen Torniamo su Gwen Quindi Le spell che portano Il campione dentro al cerchio Al fight Warwick Urgot Perché eravamo Eravamo partiti Proprio con Con coso Con Urgot E poi Con Warwick Eccetera 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 Mentre invece Un'altra tipologia di spell Che aveva lasciato Molti confusi Spell lanciate Canalizzate Al di fuori del cerchio Che cosa significa Se io Lancio una spell Prima che lancia la W Si attiva la W Va a vuoto Ad esempio Vedi Car to scaling Cosa del genere Eccetera eccetera Perché comunque Deve essere canalizzata Fino in fondo E poi Va a segno Non è che è una canalizzazione Che puoi effettivamente È una cosa Un pochino strana Cioè per alcune funzioni Altre no Carthus è una di quelle Che non so Come hanno riprogrammato Alla fine Sul PBA Infatti dovremmo testare Sul server live Perché erano un po' indecisi Su come riprogrammarla Ma Ma Spell che muovono i campioni Questa era la cosa più importante In assoluto Perché alcuni Erano tipo Aspetta Ma se io uso La ulti di Seth Non la tiro fuori dal cerchio E rimane Semplicemente Esco io dal cerchio E lei rimane dentro No Il modo in cui funziona È molto semplice Seth Scarner Tutti i campioni Che possono trascinare Un campione In una maniera Prolungata Proprio come Seth E Scarner Se sei dentro al cerchio E piazzi un controllo pesante Che spingerebbe Gwen fuori dal cerchio Viene sbattuta fuori Proprio Viene trascinata con sé Viene portata fuori A prescindere Magari il cerchio La segue per un istante Perché ovviamente Il cerchio si può riposizionare Ma comunque La porti fino in fondo Non 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 finisce Non c'è quella situazione Imbarazzante In cui Seth Prende la ulta E lui viene sbattuto fuori E Gwen rimane dentro No Non succede così Stesso discorso per Scarner Se comincia a trascinarla La trascina fino in fondo Chiaro che Se il campione È sul bordo E tu sei fuori Non la puoi colpire Non la puoi targettare Se tu invece Entri nel cerchio Puoi applicare i controlli Come vuoi Come normale che sia Questo voleva essere un video Per magari facilitare la vita Ad alcuni dei giocatori Che dovranno affrontare Gwen Renderla un pochino Meno frustrante Se vedete altre interazioni strane Ditemele Perché sono molto curioso C'era anche questa di Kane Che non è la più importante Però se giocate che è in giungla Se sei fuori dal cerchio Non puoi lanciarla Anche se hai già colpito Gwen prima Devi essere dentro al cerchio Per poterla lanciare Ma quella è la regola Abbastanza standard Abbiamo controllato Per sicurezza Ma è normale Che sia così Signore e signori Per questo video è quanto Se avete interazioni strane Che magari non riuscite a capire Mandatemi magari un replay O scrivetemi sotto nei commenti E noi ci vediamo Al prossimo video E noi ci vediamo